Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete seguirmi su Instagram e vi ricordo che sono attiva anche su Facebook, vi lascio il link nell'info box. Detto questo, andiamoci dentro col video. Il caso di cui vi parlo oggi ha scosso profondamente la comunità in cui si è verificato e ha sollevato importanti discussioni sulla sicurezza dei giovani e sul trattamento dei disturbi mentali. È la mattina del 1 agosto 2016 e ci troviamo a Roswell, una città della Contea di Falton, in Georgia. Poco prima delle 6 del mattino un addetto alle consegne arriva presso un supermercato di nome Publix su Woodstock Road. Sta per iniziare a scaricare la merce quando nota due corpi senza vita, abbandonati nel parcheggio appena dietro il supermercato. Chiama quindi la polizia, poi un grande trambusto si diffonde nei dintorni della scena del crimine che si riempiono di persone. Quando gli agenti arrivano sul posto incontrano due coppie dei genitori preoccupate perché i loro figli sono scomparsi. Affermano che, a quanto ne sanno, i ragazzi la sera prima erano andati a dormire nei loro letti. Eppure, quando i genitori si sono svegliati al mattino dopo, non li hanno più trovati in casa. I due sono solo adolescenti, hanno entrambi 17 anni. Si chiamano Natalie Anderson e Carter Davis. Natalie Anderson è nata il 5 dicembre 1998. I suoi genitori si chiamano Suzanne e Matthew e ha una sorella minore di nome Rachel. Natalie è un'adolescente piena di vita, intelligente, simpatica, dolce e un po' impertinente. È iscritta alla Rosewell High School che si trova dall'altra parte della strada rispetto al supermercato dove è stata trovata senza vita. Natalie è una ragazza davvero talentuosa, sa cantare e suonare la chitarra, fa anche la bagnina nella scuola di nuoto sui Matlanta ed è leader della squadra di Color Guard del suo liceo. È una maggiorette. Inoltre ama gli animali e fa volontariato in un'organizzazione di soccorso. Insomma, chi la conosce sostiene che la sua gioia di vivere sia contagiosa e proprio per questa sua caratteristica aveva attirato Carter Davis. Lui proviene dal South Dakota ma la sua famiglia si era trasferita in Georgia. Carter sta per iniziare il suo ultimo anno alla River Ridge High School. È nato il 29 luglio 1999. I suoi genitori si chiamano Jeremy e Michelle. È figlio unico e sa decisamente come rendere orgogliosa la sua famiglia. È un bravo studente, sempre disposto ad aiutare i suoi compagni di classe. Ha tanti amici e appare sempre di buon umore. È anche un atleta eccellente. Pratica diversi sport come calcio, lacrosse e football. Purtroppo non ci sono dubbi. Le vittime sono proprio Natalie e Carter. A seguito del decesso dei due adolescenti, le veglie celebrate in onore di entrambi si svolgono alla presenza di centinaia di persone. Una delle amiche più care di Natalie, Emma, in questa occasione racconta che è devastata. Ha il cuore in frantumi, sente come se metà di lei le fosse stata strappata via, perché considerava Natalie come una sorella. Non riesce proprio a capire chi possa aver fatto del male a Natalie o a Carter. Emma in realtà non lo aveva mai incontrato, ma Natalie gli aveva parlato tantissimo di lui, descrivendolo come un bravo ragazzo. Il funerale di Carter ha luogo presso la chiesa episcopale di Saint Martin, dove sua madre insegna inglese. Anche per lui sono presenti centinaia di persone, compresi molti dei suoi compagni di squadra, che indossano le loro maglie in suo onore. Il preside della scuola legge una dichiarazione della famiglia di Carter, che ha detto Il suo sorriso era come un abbraccio caloroso. Carter faceva amicizia facilmente, toccando i cuori di tanti. Anche se la sua vita è stata stroncata, tutti ricorderanno quanto lui amava il Signore. Diceva a tutti che viveva la vita al massimo, e ora se n'è andato. Ora tocca alla polizia scoprire cosa era successo ai due ragazzi. Arrivati sulla scena del crimine, nel parcheggio dietro Publix, gli agenti avevano identificato rapidamente i corpi di Natalie e Carter, messi in posa dopo che erano stati uccisi. Natalie era completamente svestita, sdraiata con le gambe divaricate e aveva una piuma tra i capelli. Un segno di bruciatura si evidenziava sul suo alluce destro, ma questo particolare non verrà mai spiegato durante le indagini. Carter invece indossava solo un paio di pantaloncini, le sue braccia erano tese ed era posizionato di traverso. Anche lui riportava un segno di bruciatura, ma sull'alluce sinistro. Entrambi erano stati uccisi da un singolo colpo di pistola alla testa. Nella zona i duplici omicidi sono particolarmente rari, ma soprattutto Roswell è considerata come una delle città più sicure dello Stato. La polizia conclude che l'assassino dei due ragazzi era per loro uno sconosciuto, perché nessuno sapeva che sarebbero usciti di nascosto dalle loro case per incontrarsi da Publix. Sembra quindi si tratti di un omicidio casuale. Gli investigatori esaminano i video di varie telecamere di sorveglianza e vedono le macchine di Carter e Natalie che attraversano il parcheggio intorno alle 3 di notte per poi scomparire dietro all'edificio. Pochi minuti prima che la coppia entrasse nel parcheggio, anche una Honda Passport argentata si era fatta strada davanti al supermercato. Quando Natalie era arrivata, superando questo veicolo, il conducente era sceso dalla Honda e aveva seguito le due macchine a piedi per poi sparire anche lui dall'inquadratura. Quest'uomo era alto, aveva capelli lunghi e disordinati e sfortunatamente la targa del suo SUV non è visibile nel filmato. Allora la polizia chiede aiuto al Georgia Bureau Investigation, sperando di poter rintracciare il sospettato. La Honda Passport argentata presenta alcuni danni visibili nel pannello laterale del passeggero posteriore. Inoltre c'è una differenza di colorazione tra le ruote. Quelle posteriori sono più scure di quelle anteriori. Questi particolari consentano di restringere il campo della ricerca e la squadra sembra riuscire a individuare presto l'auto. La macchina appare nei video delle telecamere di sorveglianza nella zona dove sono stati commessi gli omicidi e proprio nel lasso di tempo in cui la polizia ritiene che i due ragazzi siano stati uccisi. Pubblica quindi la foto del veicolo chiedendo agli spettatori di farsi avanti in caso abbiano informazioni. Nel frattempo gli agenti esaminano i dati di centinaia di veicoli che corrispondono alla descrizione del SUV argentato. Chiunque avesse ucciso Natalie e Carter aveva inoltre sottratto a entrambi alcuni oggetti personali dopo l'omicidio, tra cui la carta di debito di Natalie e i cavi di avviamento della macchina di Carter. Nello specifico la carta di debito di Natalie era stata usata 90 minuti dopo l'orario stimato del decesso alle 3 di notte presso la stazione di servizio Flash Foods sull'autostrada 92 a Woodstock. La polizia aveva ottenuto questa informazione rapidamente perché i genitori di Natalie stavano monitorando il suo conto bancario tramite un'applicazione, rendendosi subito conto della presenza di questa transazione. La polizia si era diretta immediatamente nel posto segnalato per chiedere di visionare i filmati di sorveglianza. Analizzando i video, gli agenti notano lo stesso SUV grigio immortalato vicino alla scena del crimine. Anche stavolta non si evidenzia la targa del SUV, ma ottengono conferma che è lo stesso perché i danni del veicolo e quella differenza di colorazione delle ruote sono caratteristiche presenti. Ma la macchina non è l'unica cosa che cattura l'attenzione della polizia, perché nell'inquadratura riappare un uomo che sembra giovane, con i capelli lunghi e una maschera sul volto. Cammina per la stazione di servizio, rifornisce il SUV di benzina e se ne va. La maschera che indossa in questo filmato di sorveglianza è quella del film Viper Vendetta, cioè quella di Guy Fawkes. Lo stesso uomo era stato visto anche nei video di sorveglianza delle attività commerciali situate vicino alla scena del crimine e anche in quel caso indossava la maschera. Probabilmente aveva ucciso i due ragazzi con il volto coperto. La polizia riesce a scoprire a chi è intestato il SUV, cioè a un certo Walter Hazelwood, che però non viene considerato un sospettato perché il suo aspetto non corrisponde a quello dell'uomo ripreso alla stazione di servizio. È un signore più anziano che, in effetti, aveva anche chiamato la polizia per denunciare, circa 12 ore dopo il duplice omicidio, il furto di una delle sue pistole. Walter spiega però di avere un nipote, Jeffrey Hazelwood, un ragazzo di 20 anni. E lui sì che si adatta alla descrizione del giovane visto nel video di sorveglianza. La polizia decide di indagare su Jeffrey chiedendosi se conoscesse Natalie Carter. Il ragazzo ha solo tre anni più delle vittime, ma non emerge alcun collegamento netto tra loro. Forse Jeffrey ha dei conoscenti in comune con Carter, ma niente di più. Questo però non significa che Jeffrey non debba essere considerato un sospettato, proprio perché la prima ipotesi della polizia era stata quella di un delitto commesso da un estraneo. Gli agenti quindi mettono sia lui che la sua macchina sotto sorveglianza e, nel frattempo, risalgono ai tabulati telefonici del suo cellulare per controllare se Jeffrey fosse vicino al luogo dell'omicidio o alla stazione di servizio dove era stata usata la carta di debito di Natalie. Presto arriva la conferma che il telefono del sospettato si localizzava nei pressi della scena del crimine e poi alla stazione di servizio in questione, nelle prime ore del 1 agosto 2016. Cioè intorno alle 3, per essere più precisi. Gli agenti sono quasi certi che Jeff sia l'assassino dei due adolescenti, ma lo devono dimostrare. Quindi puntano la lente di ingrandimento sul giovane e scoprono che lui ha un lato piuttosto scuro, lampante, anche dai suoi social media. Aveva postato una foto su Instagram con la seguente di Dascalia. Per che cazzo dovrei vivere? Non riesco a fare nulla per bene. Tutto quello che faccio è ferire chiunque, anche quelli che amo più della mia stessa vita. E avevo giurato di non ferire mai nessuno. Sono completamente incasinato. Non mi è rimasto nessuno. Poi, il giorno dopo l'omicidio di Natalie e Carter, Jeffrey aveva postato un suo selfie in piscina. Sempre attraverso i profili social, la polizia scopre che ha una fidanzata. Gli investigatori decidono di andare a casa del sospettato, ma ad aprire la porta sono i suoi nonni, Walter e Marta, che si mostrano sorpresi nel vedere quegli uomini in uniforme da poliziotti. E, ben presto, la sorpresa si trasforma in preoccupazione. I nonni di Jeff dicono alla polizia che non hanno la più pallida idea di dove si trova il nipote, dato che due giorni prima lo avevano cacciato, probabilmente se ne era andato a casa della sua ragazza. I detective, quindi, si dirigono verso l'abitazione della fidanzata di Jeffrey e individuano la sua macchina parcheggiata fuori dal vialetto. Tuttavia, piuttosto che bussare alla porta d'ingresso, la polizia decide di nascondersi e aspettare con pazienza che sia lui a uscire e a risalire in macchina. Poche ore dopo, Jeff lascia la proprietà, monta in auto e si allontana. La polizia, sotto copertura, lo segue. Lo osserva mentre entra in una stazione di servizio, si dirige verso il parcheggio e si cambia i vestiti. Allora gli agenti lo circondano e lo arrestano. Jeffrey viene condotto sul sedile posteriore dell'auto della polizia e, come sapete, all'interno di questi veicoli c'è una telecamera. Ebbene, Jeff viene ripreso mentre ha una crisi, a meno che non stia recitando come un grande attore, perché intrattiene una discussione con se stesso. Sembra che stia parlando con un'altra persona, ma non c'è nessuno accanto a lui. Sta dialogando con una parte di sé, chiedendole di stare lontano da lui e da sua moglie, appellativo con cui si rivolge spesso alla sua fidanzata. Il ragazzo viene arrestato e riceve 15 capi di imputazione, tra cui per i reati di omicidio, omicidio aggravato, aggressione con arma mortale, aggressione intima aggravata, rapimento, furto di carte, frode di identità. Sono passate 48 ore dall'omicidio e ora che Jeffrey è in custodia, gli agenti perquisiscono la sua macchina. Trovano una piccola tannica di benzina, due fucili, la maschera che indossava ripresa nei filmati di sorveglianza, una granata e dei bossoli per una pistola da 9 mm. Gli agenti riescono inoltre a ottenere un mandato di perquisizione per la casa dei nonni di Jeff, dove il ragazzo ha vissuto per anni e da cui è stato recentemente cacciato. Quando la polizia vi fa ritorno, i nonni spiegano che la camera da letto di Jeffrey era sempre chiusa con un catenaccio. Il nipote aveva detto loro di non entrare mai nella sua stanza. Qui i detective raccolgono molte potenziali prove, fluidi corporei, tracce di sangue e DNA. Trovano anche armi da fuoco, munizioni, bossoli, vestiti sporchi di sangue, dispositivi elettronici o carte per transizioni finanziarie intestate a titolari diversi. Sembra quindi che Jeffrey si sia appropriato delle carte di credito o di debito di altre persone. Tuttavia la polizia non chiarisce mai se una di queste possa appartenere all'altra vittima del duplice omicidio, Carter. La polizia riperta anche delle giacche nere, un tablet, un iPad, un paio di stivali, dei boxer e dei blocknotes in cui Jeff riportava i suoi pensieri. Il ragazzo infatti adora scrivere, lo faceva spesso e le sue note si rivelano utili per approfondire il suo stato mentale. Jeffrey scriveva che voleva essere un assassino e dettagliava i passi che avrebbe dovuto intraprendere per raggiungere questo obiettivo. Inizialmente durante il primo interrogatorio Jeff nega di aver ucciso i due adolescenti. Dopo alcuni giorni di custodia però viene interrogato dalla detective Jennifer Bennett, un'investigatrice assegnata al suo caso. Allora emergono diversi dettagli bizzarri. Jeffrey è molto ansioso, in particolare quando vengono sollevati argomenti angoscianti. La poliziotta descrive il suo comportamento dicendo «Gli ho stretto la mano durante una parte dell'interrogatorio, quando l'ho affrontato a proposito di alcuni argomenti difficili e lui ha usato un accento britannico e un tono di voce molto lamentoso per rispondermi». A Jeffrey tremano le mani, si rannecchia sulla sedia ed è chiaro che non stia bene. La detective riesce a tranquillizzarlo parlandogli un po' con voce calma e pacata, così Jeffrey senza che gli venga posta alcuna domanda, inizia a raccontare diversi aspetti della sua vita. Afferma che viveva con i suoi nonni finché non lo avevano cacciato proprio la notte degli omicidi. Allora si era rifugiato a casa della sua ragazza, ma poi era uscito vagando alla ricerca di un posto in cui dormire. Dietro una stazione di servizio aveva trovato una pistola. Questo è ciò che Jeff afferma, ma la polizia sa bene che sta mentendo. Come detto, 12 ore dopo gli omicidi, Walter, il nonno di Jeffrey, aveva chiamato la polizia per riferire che una delle sue pistole era stata rubata. Si tratta proprio di quella usata da Jeff per commettere il duplice delitto. A proposito, lui cosa sapeva sulla morte dei due adolescenti? Jeffrey dice che ne aveva sentito parlare dalla madre della sua ragazza, che era una tragedia orribile. La detective allora gli dice, oh ok, mi hai sentito parlare dalla mamma della tua fidanzata ed è orribile, sì certo, ma ecco la cosa interessante. Ti abbiamo visto in un video di sorveglianza mentre arrivavi al Publix. Sei uscito dalla macchina e hai camminato fino alla zona in cui sono avvenuti gli omicidi, esattamente nello stesso momento in cui venivano commessi questi delitti. Sai darmi una spiegazione per questo? A questo punto Jeffrey comincia a tremare irrefrenabilmente. Pare che gli sforzi che la detective aveva fatto per calmarlo siano svaniti nel nulla. Il ragazzo afferma, non voglio dire niente perché è stato così orribile, c'era sangue ovunque, era molto buio e davvero brutto. Poi però aggiunge, non l'ho fatto io. Jeffrey è agitato, ma sembra anche parecchio confuso. L'interrogatorio viene interrotto perché il ragazzo non vuole più rispondere alle domande. Nel frattempo la polizia decide di interrogare la sua ragazza, Kelsey Bonham, che è accompagnata dalla madre perché ha problemi di udito ed è soggetta a crisi epilettiche. Quando però le vengono poste delle domande più personali, lei chiede a sua mamma di andarsene. Kelsey rimasta sola parla alla polizia della relazione tra lei e Jeffrey. Spiega che si erano incontrati perché lavoravano nello stesso posto, si frequentano soltanto da cinque mesi circa, ma Kelsey rivela alcune importanti informazioni da cui traspare lo stato mentale di Jeffrey. Lui crede negli animali spirituali. Afferma di avere due animali dentro di sé, un falco e un lupo, e sostiene che i falchi lo proteggano. Ultimamente il ragazzo stava attraversando un periodo difficile, tanto che aveva cercato di togliersi la vita. Aveva preso tante pillole e Kelsey lo aveva rianimato tre volte. Non aveva chiamato l'ambulanza perché Jeffrey odia gli ospedali. Poi, dato che lei aveva studiato infermieristica, era convinta di farcela da sola. Jeffrey, dopo l'overdose, non riusciva a ricordare nulla e questa amnesia si era protratta per circa una settimana. La polizia domanda a Kelsey che tipo di armi, ad esempio di pistole, possiede Jeffrey, ma lei non sa nulla. Sa però che lui ha problemi di salute mentale. Racconta che in un'occasione stringeva un coltello e lei temeva che potesse fare del male a qualcuno, così gliel'aveva sfilato dalle mani. Kelsey racconta che Jeffrey soffre di schizofrenia, ma nel suo profondo sentiva che non avrebbe mai fatto male a nessuno. Erano le voci che avvertiva nella sua testa che glielo facevano desiderare. Assumeva dei farmaci, ma di recenti aveva smesso di prenderli senza alcun controllo medico. Jeffrey viene interrogato di nuovo, chiede di parlare ancora con la detective. Conferma che era sulla scena del crimine quella notte, ma lui non aveva ucciso nessuno, non era lì da solo. Era insieme a un uomo di nome Matt che l'aveva condotto da quelle parti e gli aveva dato istruzioni su come commettere gli omicidi. Jeffrey lo aveva ascoltato solo per proteggere la sua famiglia, ovvero la sua fidanzata e i suoi genitori. Quindi una volta uscito dall'abitazione di Kelsey, Jeff era salito in macchina con Matt, che voleva un passaggio per andare a trovare una ragazza che ama molto. Tutto sembrava andare bene, ma poi Matt aveva preso la carta d'identità di Jeffrey e aveva iniziato a minacciarlo dicendogli che doveva fare tutto quello che voleva, altrimenti avrebbe fatto del male a lui e alla sua famiglia. Erano arrivati al Publix e avevano visto Natalie Carter. Matt aveva ordinato a Jeffrey di ucciderli e lui aveva eseguito le sue direttive perché era spaventato. Certo non voleva farlo, infatti inizialmente si era limitato a picchiare Carter sperando che avrebbe soddisfatto ugualmente Matt. Tuttavia quest'ultimo gli aveva ribadito di ammazzare entrambi. Non era sufficiente picchiare uno dei due. Così Jeffrey aveva recuperato dalla macchina la pistola che aveva rubato a suo nonno Walter e aveva sparato a entrambi i ragazzi. Gli aveva guardati cadere a terra e Natalie era nuda. Questa storia chiaramente è confusa, qualcuno doveva averla spogliata e quel qualcuno non poteva essere altri che Jeffrey. Nel suo delirio Jeffrey inizia a parlare usando la prima persona, diventa io narrante e Matt, come per magia, sparisce dalla storia. Come avrete intuito questo accade perché in verità Matt non esiste, non è reale. La polizia aveva già guardato il filmato di sorveglianza e sa bene che non c'era nessun'altra persona con Jeffrey quella notte. Matt vive soltanto nella sua immaginazione. Ma quindi quella notte come sono andate realmente le cose? Jeffrey era stato cacciato dalla casa dei suoi nonni, si era quindi trattenuto nell'abitazione della sua fidanzata per un po'. Poi era uscito e aveva guidato senza meta fino ad arrivare a una Waffle House locale. Voleva schiarirsi le idee ma non aveva trovato un posto dove dormire. Allora si era spostato nell'unico luogo in cui sapeva di poter parcheggiare la macchina per passarvi tutta la notte. Quando era arrivato lì erano circa le tre e se ne stava in auto a riflettere sul suo futuro più prossimo. Diversi pensieri cupio e tristi gli passavano per la mente. Ora era un senza tetto. Era così vulnerabile. Mentre era assorto in questi pensieri aveva notato due macchine che entravano nel parcheggio, superavano la sua auto e giravano all'angolo per raggiungere il retro dell'edificio scomparendo così dalla sua vista. E siccome Jeffrey era solo e annoiato aveva deciso di seguire i due veicoli a piedi ritrovandoli parcheggiati l'uno accanto all'altro. Jeff aveva guardato Carter scendere dalla sua auto per entrare in quella di Natalie. Questa parte della storia è confermata dal video delle telecamere a circuito chiuso. Si vedono due macchine che si fermano dietro il supermercato sparendo dall'inquadratura e poi un minuto dopo Jeffrey viene ripreso mentre avanza a piedi poi anche lui scompare dal filmato. Però 20 minuti dopo lo si vede correre fuori dal parcheggio e circa un'ora dopo tornare sulla scena con indosso la maschera di V per vendetta. Si avvicina alla macchina di Carter per prendergli i cavi di avviamento dell'auto temendo che il proprio veicolo si rompesse. Carter e Natalie infastato erano stati insieme un pochino insomma si erano ex ma avevano anche un buon rapporto d'amicizia. Ma continuavano a vedersi di tanto in tanto sia come amici sia per sbaciucchiarsi e cose di questo tipo. Quella notte erano sgattaiolati dalle rispettive case per incontrarsi al Publix e passare un po' di tempo insieme. Dopo aver seguito Carter e Natalie nel retro del Publix Jeffrey afferma di essersi nascosto dietro una scatola elettrica e di averli spiati. Inizialmente per riuscire a vedere meglio era salito sul tetto arrampicandosi sulle pareti come Spider-Man. Ora comprendendo che la polizia chiaramente non gli crede ammette poi di essere salito su una scala di manutenzione per raggiungere il tetto e osservare i due ragazzi dall'alto. Nel giro di un paio di minuti però aveva sentito la rabbia montare dentro di sé. Così aveva afferrato la pistola rubata dal veicolo di suo nonno prima che lui lo cacciasse di casa era tornato giù e si era avvicinato alla macchina mostrando a Natalie e Carter l'arma che impugnava. Aveva ordinato a entrambi di scendere dall'auto e aveva sparato a Carter mentre usciva ma siccome non aveva preso bene la mira il proiettile era finito a terra. Jeffrey ferisce che a questo punto comprensibilmente Carter era furioso e aveva iniziato a urlare contro di lui per difendersi. Allora Jeffrey spaventato dalla stazza del ragazzo che era più alto e più grosso di lui stavolta gli aveva sparato in testa uccidendolo proprio davanti allo sguardo terrorizzato di Natalie. Lei secondo Jeffrey era vestita solo in parte perché stava amoreggiando con Carter in macchina per l'appunto. Indossava una t-shirt e la biancheria intima. Una volta fuori dall'auto Jeffrey aveva ordinato di togliersi il resto dei vestiti poi le aveva aggredita intimamente usando una mano. Infine le aveva sparato alla testa uccidendola. La ragazza era caduta a terra accanto alla macchina. Jeffrey allora aveva rubato la borsa di Natalie dalla sua auto era tornato alla propria macchina e si era allontanato. Quella notte poco più tardi era apparso nel video delle telecamere a circuito chiuso installate in una stazione di servizio mentre faceva il rifornimento di carburante per la sua macchina grazie alla carta di debito di Natalie. Aveva ancora addosso la maschera di viper vendetta che viene solitamente adoperata dal movimento Anonymous, un gruppo di hacker. Ma Jeffrey l'aveva indossata solo per nascondere la propria identità. Inizialmente quando sosteneva che Matt lo avesse obbligato a compiere il crimine Jeffrey aveva affermato che la maschera gli serviva per nascondere la sua identità a Matt. In ogni caso dopo aver fatto benzina Jeffrey era tornato sulla scena del crimine ancora una volta apprendendo che i resti di Natalie e Carter non erano ancora stati scoperti. Così aveva deciso di metterli in posa e dopo circa due ore i cadaveri erano stati rinvenuti. Jeff intanto aveva contattato la sua fidanzata chiedendole se potesse ospitarlo in attesa che lui si riconcigliasse con i nonni. Kelsey però era ignara delle atrocità che il suo ragazzo aveva appena commesso. Dopo l'arresto Jeff viene visitato da diversi psichiatri e dal suo atteggiamento e dalle sue azioni loro concludono che non è mentalmente sano. Durante il procedimento giudiziario Jeffrey si rifiuta di guardare le famiglie di Natalie e Carter. È ammanetato e le sue mani tremano anche se in alcuni momenti pare che stia accarezzando un cane invisibile e indossa un anello noziale nonostante non sia sposato. Come detto Jeff parla spesso della sua fidanzata chiamandola moglie. Anche se i due non erano sposati legalmente la loro fede religiosa li spingeva a considerarsi marito e moglie. Ecco perché lui indossa quell'anello. Jeffrey spiega che per lui è sposato con Kelsey dal 22 aprile e questa è l'unica relazione su cui ritiene di poter contare. È solida dunque tanto importante per lui. Alcuni vedono Jeffrey come un attore ma uno dei suoi amici rilascia un'intervista a Crime Watch Daily per spiegare che il ragazzo non finge. Coloro che conoscono Jeff non sono così sorpresi delle sue orrende gesta. Sapevano che lui era una bomba orologeria pronta ad esplodere. Immaginavano che sarebbe finito in prigione o che sarebbe stato ucciso prematuramente. Insomma per le persone intorno a Jeff lui sarebbe incappato in guai seri prima o poi. In un modo o nell'altro. Durante l'udienza preliminare Jeffrey si dichiara non colpevole. Come immaginerete la salute mentale di Jeffrey e la sua infanzia rivestono un ruolo importante nel processo. Quindi parliamo più approfonditamente del vissuto di Jeff che ha compiuto vent'anni appena tre settimane prima degli omicidi commessi. Il primo agosto 2016. Jeffrey Hazelwood nasce il 10 gennaio 1996. Sua madre si chiama Sherry e lo mette al mondo quando ha solo 19 anni. Lei e il padre di Jeff si separano poco dopo la nascita del bambino e lui si allontana. Sherry ha problemi di dipendenza, abusi di sostanze nocive e alcol quindi non espone di certo Jeff a un inizio di vita ideale. Inoltre Sherry frequenta una moltitudine di uomini diversi che Jeffrey vede entrare e uscire dalla sua realtà. La situazione non pare destinata a cambiare così i nonni materni di Jeff assumono un avvocato e avviano una causa per ottenere la custodia del bimbo che ha appena 18 mesi. Jeff cresce con i suoi nonni nella loro casa in stile ranch a Roswell. Loro si impegnano al massimo per allevarlo eppure pare che Jeff non riceva tutte le cure di cui ha bisogno per superare il trauma subito a causa delle mancanze della madre. Lei e il figlio continuano a sentirsi e a vedersi ma la loro relazione viene definita orribile. Solo dieci giorni dopo il decimo compleanno di Jeffrey Sherry deve cominciare a sottoporsi a delle consulenze intensive e le viene permesso di vedere Jeff due volte al mese durante delle visite controllate e una sola volta al mese incontrandolo da sola. Queste sedute servono a insegnarle a essere un buon genitore per un bambino che esibisce gravi problemi comportamentali. L'obiettivo è quello di tornare a essere una famiglia unita. Non so se Sherry avesse deciso di migliorarsi per il bene del figlio e del loro rapporto ma è previsto che paghi 40 dollari a settimana per il mantenimento di Jeff e lei non lo fa mai. Alla fine sono i suoi genitori quindi i nonni di Jeff che sostengono una spesa di circa 112 mila dollari dopo aver fatto causa a Sherry per le sue inadempienze. I nonni erano convinti di poter donare a Jeffrey tutto l'aiuto possibile ma lui continua a soffrire di gravi problemi comportamentali. Nel corso degli anni tra il 2010 e il 2016 i poliziotti vengono chiamati quasi 10 volte a seguito delle sue malefatte. Ad esempio quando Jeff ha 13 anni la polizia viene allertata e corre a casa dei nonni di Jeff perché il ragazzino sta agitando una pistola nel bel mezzo del cortile. Solo quando si avvicinano gli agenti scoprono che sta maneggiando un'arma giocattolo. Nel 2011 la polizia viene chiamata di nuovo e Jeff viene denunciato come scomparso dopo che ha lasciato a casa dei suoi nonni un biglietto in cui ha scritto di volersi ritirare nella natura selvaggia per capire quanto a lungo potrà sopravvivere. Questo per i suoi nonni è chiaramente un fatto allarmante perché Jeff ha solo 14 anni e non ha portato con sé l'attrezzatura da campeggio. Piuttosto ha preso uno zaino e la pistola del nonno. Più tardi durante quella notte il ragazzino chiama i nonni per dire loro che si trova a casa di sua madre a Woodstock e alla fine lei lo riporta a casa. Questi comportamenti preoccupanti sono tutti i giorni sotto gli occhi dei nonni del ragazzo. Se per molti Jeffrey può sembrare innocuo loro sanno bene quanto è irrequieto in realtà. In un'altra circostanza i vicini contattano la polizia perché il 15enne Jeff è stato visto nel cortile anteriore mentre brandiva una spada e lanciava dei coltelli a tratti spostandosi proprio nel giardino dei vicini. Loro hanno interagito più volte con lui e sanno che è un ragazzino un po' strano. Quando arrivano gli ufficiali Jeffrey spiega che stava solo praticando karate. I poliziotti gli ordinano di smettere di lanciare quei coltelli e soprattutto di non invadere i cortili dei vicini. La chiamata peggiore arriva nell'aprile del 2013 da parte della nonna di Jeffrey perché il nipote ha sottratto dei coltelli e una spada dalla cassaforte. La nonna è molto spaventata perché sei settimane prima il sedicenne Jeff gli aveva detto di voler fare esplodere una bomba conscio che alcune persone si sarebbero fatte male a causa dello scoppio. Jeff doveva ancora elaborare un piano per questa strage. La polizia dunque arriva per l'ennesima volta a casa dei nonni dell'adolescente il quale durante l'interrogatorio spiega che i suoi erano solo pensieri senza conseguenze non avrebbe mai fatto del male a se stesso o a qualcun altro. Meno di due anni dopo nel febbraio del 2015 il nonno di Jeff Walter chiama la polizia per riferire che una delle sue pistole e uno dei suoi fucili sono stati rubati. Il principale sospettato del furto è chiaramente Jeff ma non gli viene mossa contro alcuna accusa formale. Quindi anche se la polizia è stata chiamata molte volte a causa di Jeff lui prima degli eventi del primo agosto 2016 non è mai stato arrestato accusato o condannato per le sue azioni e questo col senno di poi non si può che considerare un grosso errore. La polizia d'altro canto afferma che non poteva rinchiudere un ragazzo un po' bizzarro che però concretamente non faceva nulla di pericoloso. Insomma Jeff ha indubbiamente diversi problemi e tutti lo hanno notato. La sua famiglia, una sua zia la quale afferma che Jeff cova dentro di sé tanta rabbia e dolore, i suoi vicini di casa, i suoi compagni di scuola ma nessuno sa di cosa si tratti esattamente. Jeff frequenta la Compass Academy per poi spostarsi in un'altra scuola che consente agli studenti di frequentare le lezioni tre giorni a settimana. Infine si iscrive all'Alternative Youth Academy, una scuola in stile militare. Un ex compagno di classe di Jeff ritiene che lui non era affatto un ragazzo normale ma gli trasmetteva di essere davvero un tipo strano. I suoi nonni come detto hanno provato a stargli vicino ma alla fine lo cacciano di casa. Esasperati dal suo comportamento e ormai anche spaventati da Jeff. Sì hanno paura di lui specialmente perché l'ultima volta il nipote ha rubato una pistola dal nonno mentre esprimeva pensieri suicidi e omicidi. Anche in altre occasioni Jeff era stato accolto da amici e parenti o dormiva sui loro divani oppure nella propria macchina. Ma dunque perché il comportamento di questo ragazzo è così irregolare? Beh sembra affetto da una combinazione di problemi di salute mentale e come detto sicuramente sua madre gli aveva procurato un trauma. Inoltre aveva ricevuto la diagnosi di schizofrenia e disturbo bipolare e alcune fonti riportano che era autistico. Queste condizioni di salute mentale rappresentano un problema anche al processo perché durante la detenzione in carcere a Jeff non sono stati somministrati i suoi farmaci abituali. Quindi è rimasto un mese senza assumere medicine. Le prende di nuovo quando viene trasferito in un ospedale psichiatrico e i medici affermano che versa in uno stato davvero orribile. Jeff risulta incoerente dice di sentire delle voci e di avere difficoltà a formulare delle frasi di senso compiuto. Lo psicologo che invece aveva in cura Jeff prima dell'arresto lo aveva seguito per tre anni. Avevano affrontato più di 82 sedute e afferma che Jeffrey soffriva di allucinazioni, che era convinto di poter percepire i pensieri dei demoni. Era certo che Dio gli mandasse dei messaggi tramite la tv e che le persone potessero spiarlo attraverso i muri o le telecamere che immaginava fossero installate nella sua stanza. Spesso fronteggiava periodi di depressione, aveva difficoltà a mantenere l'attenzione e a dormire. Come detto per anni aveva assunto delle medicine per trattare questi problemi ma aveva confessato alla sua ragazza che, poco prima degli omicidi, aveva smesso di prenderle. L'ex psicologo di Jeffrey in realtà interviene durante il processo per essere interpellato sia dalla difesa che dall'accusa. L'obiettivo dell'accusa è quello di dimostrare che la salute mentale dell'imputato non lo ha influenzato quando ha commesso il duplice delitto. La difesa al contrario vuole provare che i suoi problemi di salute mentale hanno avuto un ruolo importante nello scatenare la sua furia omicida. I legali di Jeffrey ritengono anche che lui non sia idoneo a sostenere un processo. Tuttavia alla fine l'imputato viene dichiarato in grado di intendere di volere. Il medico che gli ha dispensato le sue cure nel Central State Hospital di Millegdville afferma che Jeffrey ha fatto grandi progressi da quando è arrivato in ospedale. Jeff soffriva di psicosi risultava difficile delineare una diagnosi corretta e completa per lui. Così il dottore gli ha fatto ripetere tutti i test nel tentativo di ottenere una valutazione esaustiva delle sue problematiche. Tuttavia è ancora complesso definire da cosa si ha affetto esattamente. Durante il processo il medico afferma che secondo lui Jeff soffre di cinque diversi disturbi mentali che gli causavano allucinazione, ansia e pensieri suicidi. Ciò nonostante grazie al trattamento farmacologico è in grado di sostenere il processo. Alla fine Jeff cambia la sua versione iniziale, si dichiara colpevole ma afferma di non essere sano mentalmente. Quando Jeffrey rientra nell'aula del tribunale, dopo aver cambiato la sua dichiarazione, sembra un ragazzo diverso da quello che aveva sostenuto a malapena gli interrogatori con la polizia e le prime fasi del processo. Le mani non gli tremano più, i capelli sono più corti e ordinati e ha addosso un abito grigio elegante. Quando il giudice gli chiede se avesse capito che tipo di accuse gli sono state rivolte e quanto tempo dovrà passare in carcere, lui risponde sì signora. Il giudice gli chiede pure se avesse assunto le sue medicine la sera prima e quella mattina perché sono molto importanti dato che le scelte che Jeff aveva fatto in passato gli cambieranno la vita per sempre. Jeffrey afferma di aver preso le medicine e si dichiara colpevole di diverse accuse. Due capi di imputazione per omicidio colposo, tre capi di imputazione per omicidio aggravato, due capi di imputazione per aggressione aggravata, un capo di imputazione per rapimento, un capo di imputazione per violenza intima aggravata, un capo di imputazione per furto di carta di credito, un capo di imputazione per frode d'identità, due capi di imputazione per possesso di un'arma da fuoco durante un crimine e un capo di imputazione per furto. Prima che la sentenza venga letta la mamma di Natalie dice mia figlia non si diplomerà mai al liceo, non andrà mai al college e non realizzerà mai il suo sogno di diventare architetta. Natalie non potrà mai provare l'irrinunciabile gioia e l'amore di avere figli, non avrà mai la possibilità di cambiare il mondo in meglio. Come suoi familiari non sentiremo mai più il suo bel canto e suonare la sua chitarra in giro per casa, non potremo mai sentire la sua risata contagiosa o abbracciarla forte, proprio come faceva lei con noi. Non ci saranno più occasioni per dirle quanto la adoriamo, non ci saranno mai più viaggi in famiglia con lei, tutto è cambiato. Anche a parlare per Carter è sua madre che dice cosa sarebbe potuto diventare, quale avvenire avrebbe avuto? Come posso esprimere a parole l'impatto della perdita di una persona tanto talentuosa e intelligente? Una persona che aveva a cuore il mondo. Penso al grande e umile dono di Carter di prendersi cura di coloro che venivano presi di mira, che avevano problemi a scuola o erano stati abbandonati. Si era opposto ai bulli della scuola senza mai tirarsi indietro, ma proteggendo e aiutando le persone che venivano trattate ingiustamente. Aiutava i bambini a fare compiti, a fare amicizia e a sentirsi inclusi. Come posso spiegarvi l'impatto che ha la perdita di questa voce così buona e gentile? Non posso. Jeff invece non dice nulla, ma il suo avvocato si scusa per lui, affermando che al momento degli omicidi il suo assistito aveva problemi visivi e neuditivi. Soffriva di allucinazioni, mai pentito. Infine i nonni di Jeff affermano di essere devastati per Carter, Natalie e le loro famiglie. Nel marzo del 2017 Jeffrey Hazelwood viene condannato all'ergastolo senza possibilità di libertà condizionale. Siccome si è dichiarato colpevole ma con insanità mentale, riceverà i trattamenti psichiatrici di cui ha bisogno mentre è in carcere. Viene rinchiuso nella prigione statale di Baldwin in Georgia e nell'agosto del 2017, quindi cinque mesi dopo la sua condanna, in qualche modo riesce ad accedere a un cellulare e pubblica un selfie nelle storie Instagram. Una signora, mamma di una ragazza che Jeff conosceva, afferma che il detenuto ha anche mandato dei messaggi a sua figlia su Facebook. Il personale della prigione si fa avanti mostrandosi incredulo, ma a quanto pare i cellulari di contrabbando rappresentano un problema di tutti gli Stati Uniti, non solo della Georgia. Arriviamo a questo punto alle riflessioni conclusive. Trovo che questo caso sia spaventoso anche perché Jeffrey non conosceva Natalie e Carter, non li aveva mai visti prima. I due ragazzi erano innocenti e il loro assassino non aveva alcun movente valido per il delitto. Le dichiarazioni della mamma di Carter e di Natalie mi spezzano il cuore, anche se è evidente che Jeffrey aveva seri problemi di salute mentale. Spero che in carcere abbia ottenuto tutto l'aiuto necessario e mi chiedo come sia possibile che le persone intorno a lui non avessero preso sul serio quei segnali allarmanti. I suoi nonni si trovavano costretti a chiamare la polizia in media una volta all'anno tra il 2010 e il 2016 e credo sia grave che nessuno abbia valutato più accuratamente la situazione. So che anche i nonni si sono sentiti profondamente in colpa. Si sono scusati per non essere intervenuti in tempo ma non immaginavano che Jeff avrebbe fatto qualcosa di così orribile. Posso credere che i disturbi di Jeff avessero giocato un ruolo importante nell'esortarlo a condurre alla morte Natalie e Carter. Questa verità è difficilissima da affrontare per dei genitori che hanno perso i figli ma il loro assassino non era mentalmente sano. Non capiva fino in fondo quello che stava facendo. È un'autentica tragedia questa. In definitiva penso che Jeff si trova dove dovrebbe essere. Nonostante il suo disagio mentale è stato giusto ritenerlo penalmente responsabile perché ha ucciso comunque due ragazzi di 17 anni. In ultimo pensiero va proprio a Natalie, a Carter e alle loro famiglie. Erano due giovani eccezionali che avevano tutta la vita davanti. So che per i familiari è straziante vivere senza i loro amati figli o senza sua sorella nel caso di Rachel ma spero con tutto il cuore che trovino un briciolo di serenità perché lo meritano davvero. Detto questo ragazzi ovviamente sono curiosa di conoscere le vostre opinioni. Fatemi sapere se conoscevate già questo caso e insomma voglio sapere che cosa avete provato durante la visione di questo video, che emozioni vi ha suscitato questa storia, questo caso. Insomma sentitevi liberi di condividere con me le vostre idee, le vostre sensazioni qui sotto nei commenti. Io sono sempre molto curiosa e vi leggo tutti. Nel frattempo vi mando un bacione. Noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. Mi raccomando fate i bravi, continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene e soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici. Basta che non facciate nulla di criminale. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti.